Tre attacchi nel giro di poche ore compiuti da palestinesi contro forze di sicurezza a Gerusalemme secondo Israele. Uno avrebbe accoltellato un poliziotto israeliano vicino alla porta dei leoni nella città vecchia. La gente è rimasto illeso, protetto dai colleghi che hanno sparato al palestinese uccidendolo. Secondo un testimone, quest'ultimo era disarmato. Un altro palestinese è stato ucciso dopo aver accoltellato due ebrei in una colonia israeliana a Gerusalemme Est, mentre nei pressi del quartier generale della polizia una donna avrebbe aggredito all'arma bianca una guardia di frontiera che si è difesa ferendola. Sono almeno 18 gli attacchi compiuti dai palestinesi contro israeliani dal 3 ottobre scorso per mezzo di coltelli. A Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza la tensione è alta. Domenica si sono verificati duri scontri a Shwafat, quartiere di Gerusalemme Est. Giovani palestinesi hanno lanciato pietre contro soldati israeliani che hanno fatto uso di lacrimogeni. Gli attacchi delle ultime settimane starebbero spingendo sempre più israeliani verso l'autodifesa. Si registra un aumento marcato di domande di portodarmi.